Varese ha presentato oggi mister Luciano De Paola, quale sarà la sua squadra? La mia squadra è cercare di fare un discorso importante e cercare di fare delle cose importanti per cercare di portare a casa un risultato importante. Io sono arrivato qua in una situazione non difficile perché poi cinque partite sono poche e quindi ci sono tantissime partite, bisogna lavorare e cercare di trovare il vestito giusto per la squadra e poi sono convinto che possiamo fare molto bene. Cosa servirà per raggiungere l'obiettivo della società? Il nostro obiettivo è fare bene e portare la gente allo stadio, quindi lavorare con sacrificio, sudare la maglia che è una maglia molto pesante e quindi cercheremo di avvicinare i tifosi allo stadio perché se una squadra lotta con capabilità che non molla mai sicuramente la gente si avvicinerà e noi faremo di tutto per arrivare a questo obiettivo.